Ci sono estracomunitari, fanno quello che vogliono, cioè Grattosoglio è diventata una schifezza. Preparava un attacco in Italia, era pronta a farsi esplodere. Aveva chiesto istruzioni su internet per diventare kamikaze a un membro dell'ISIS. Gli 007 hanno intercettato le sue comunicazioni ed è stata espulsa. 22 anni, egiziana, con regolare permesso di soggiorno incensurata. Da 4 anni in Italia, negli ultimi mesi era iniziato il suo processo di radicalizzazione, come mostrano queste foto. L'aspirante kamikaze abitava qui a Grattosoglio, estrema periferia meridionale di Milano. Un quartiere di case popolari, 20.000 alloggi, 8 torri bianche e 52 edifici a stecca. La convivenza forzata tra anziani e immigrati, una polveriera sociale pronta a esplodere, una sorta di baglio milanese. Una cosa incredibile a Grattosoglio, è una cosa proprio incredibile. Ci sono di tutti i colori, di tutte le razze. La potenziale terrorista era l'insospettabile vicina di casa, andava persino all'oratorio, dicono le donne del quartiere. Veniva anche in oratorio col velo e le sue connazionali ce l'hanno detto che è stata rimpatriata. Noi accogliamo tutti, anche i bambini musulmani, dice adesso Don Giovanni a telecamere spente, ma facciamo rispettare la legge. Nessuno viene con il velo integrale. Un'insospettabile vicina di casa che invece era una potenziale kamikaze. Chissà quanti ce n'è ancora, penso che sia l'unica. Uno non lo può sapere, può essere anche il vicino di casa.